salve come ben saprete da oggi cambiano nuovamente le regole d'accesso al territorio ungherese come anche nel maggio la camera di commercio offre assistenza a tutti gli imprenditori che necessitano di venire in Ungheria quindi contattateci siamo già al lavoro perché da stamattina stiamo già gestendo decine e decine di richieste quindi non fatevi prendere dal panico noi siamo qui per aiutarvi a presto e grazie